eeeh ciao a tutti ragazzi sono Bayon Gamer e oggi siamo tornati nel torneo di Pestlandia League siamo giù dalla seconda giornata di campionato della Ligue 1 oggi giocheremo in casa contro l'Olympique di Marsiglia di Tariq Idar spero si pronunci così io non vedo l'ora di giocare quindi andiamo subito alla partita si parte ragazzi mettetevi comodi e godetevi la partita ma è Gervinio bella Walcott porca puttana grande merda 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 grandissimo Art ma porca puttana bella bella bellissimo ragazzi bellissimo scavalcare 1 a 0 vaffanculo ho seri problemi a difendere ragazzi lo ammetto ho seri problemi a difendere vai Walcott ma mai una volta che ci arrivi di testa mai via 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 ma vaffanculo ma vaffanculo bella 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 pazzo ma i pieni la sta micchia di palla guarda quello che si ammazza ciao ciao ma Gervinio una volta tanto ma vaffanculo vai ma vaffanculo bella bella ma dai vai Gervinio bella no non ci sto credendo ma come cazzo l'ha ammazzato levala bicchia l'avevo vista dentro dai che ci arrivi dai Müller oh e che cazzo non posso sbagliare si cazzo tre a due no 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 E' finita cazzo E' finita finalmente E' finita 3 a 2 Sono riuscito a rimontarla ragazzi 3 a 2 Va bene Va bene così Va bene così Va benissimo così Ad ogni modo ragazzi Faccio i miei complimenti a Tariki Per chi ha giocato veramente bene Attenzione Vi è piaciuto tanto il suo modo di giocare Ok ragazzi Concludo qui anche questo episodio Come sempre Spero che il video vi sia piaciuto Quindi vi da lasciare il mio pollicione in su A commentare Alla prossima Ciao